La prima cosa che deve fare un casco ovviamente è proteggervi in caso di cadute. Il Lumex Pro fa qualcosa in più. È dotato di luci intermittenti davanti e dietro, di modo che gli automobilisti vi possono vedere, ed è collegato via bluetooth al vostro telefono. Molto comodo perché potete ascoltare la musica avendo le orecchie libere e quando riuscite a rubare un po' di tempo per il lavoro, riuscite a rispondere al telefono senza togliere le mani dal manubrio, mettere le mani in tasca perché ovviamente con il vostro telefono in tasca riuscite a parlare senza correre dei rischi. Mi raccomando, indossate sempre il casco con un Lumex Pro, ovviamente il comfort è assicurato.